Ragazzi buongiorno a tutti bentornati su Crypto Salad ancora oggi qui Federico oggi 22 novembre 2022 Bitcoin 15.800 dollari in questo momento commentiamo la situazione nella serata di ieri Bitcoin riaggiorna anche se di poco il minimo per l'anno 2022 guardiamo la situazione sul grafico diversi time frame menzioniamo ancora alcuni elementi on chain che non guardiamo insieme da un po' di tempo e per ragazze parliamo anche del fear and greed index come si è evoluta in queste settimane quindi se vi sembra interessante lasciate un mi piace iscrivetevi al canale cliccate la campanella per le notifiche lasciate i vostri messaggi e guardate anche i referral link in descrizione in particolare se non avete ancora un account Bybit ci sono disponibili interessanti bonus per nuovi account con deposito fino al 7 di dicembre sulla base di questa tabella che vedete qui Ragazzi iniziamo a guardare il grafico di Bitcoin time frame settimanale come vedete abbiamo avuto questa importante candela di capitolazione direi in prossimità o comunque di poco seguente al falimento alla bancarotta di FTX che ha corrisposto anche a questo importante spike nei volumi quindi vedete che ci sono dei volumi che hanno raggiunto i massimi rispetto ai volumi in ascese che abbiamo visto nelle precedenti settimane e solitamente quando c'è la capitolazione si assiste proprio ad uno spike nei volumi di vendita quindi questo è comune nelle candele di capitolazione molto simile anche a quello che abbiamo visto durante il crash del covid nel marzo 2020 ovviamente i prezzi erano diversi ma c'è anche qui uno spike importante nei volumi quindi volumi corrispondenti ad una possibile capitolazione di quelli che sono i sellers se guardiamo per ragazzi invece il time frame delle 4 ore allora abbiamo come già visto una divergenza rialzista sul settimanale confermata vi ricordo che non necessariamente a seguito della divergenza il prezzo deve salire immediatamente ma può essere che ci siano molteplici divergenze rialziste quindi che i prezzi il prezzo continua a fare dei lower low mentre l'indicatore la resi in questo caso continua a fare degli higher low prima che poi il prezzo possa a possa recuperare quanto segnalato dall'oscillatore qua siamo sul time frame delle 4 ore abbiamo messo a segno una divergenza rialzista sulle 4 ore questo probabilmente potrebbe anticipare un rally quindi un piccolo rialzo per lo meno nel breve termine perché abbiamo come vedete un low un lower low quindi bitcoin aggiorna il suo minimo di poche decine di dollari mentre l'indicatore vedete la resi segna un low e un chiaro higher low quindi abbiamo una divergenza rialzista sul time frame delle 4 ore che potrebbe eventualmente bitcoin portare bitcoin a ritestare il livello dei 16.000 o 17.000 dollari sicuramente c'è una importante trend line da cui bitcoin è stato rigettato ormai 1 2 3 4 5 volte quindi sicuramente violando questa trend line potremmo vedere un pochino più di upside per il prezzo e vediamo poi ragazzi ieri abbiamo parlato del balanced price quindi questa metrica on chain che mostrerebbe quale quale potrebbe essere insieme al cvdd un bottom sufficientemente affidabile per bitcoin per lo meno guardando lo storico del prezzo e vediamo che nel 2011 questa è la metrica di glass node ieri vi mostravo il grafico preso da looking to bitcoin glass node è più affidabile a mio avviso e come vedete qui scendiamo sotto il balance price nel bottom del 2011 qui facciamo bottom nel 2015 in prossimità del balance price anche se il bottom è al di sotto del balance price qui anche qui scendiamo leggermente al di sotto e come vedete se andiamo a zoomare vedete che scendiamo sotto il balance price nella discesa che c'è stata nei primi di nei primi qualche settimana fa mentre adesso siamo proprio in prossimità del balance price quindi se questo indicatore avesse senso e se la storia potesse ripetersi sicuramente accumulare in prossimità o addirittura sotto il balance price potrebbe 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 avere importanti o interessanti ritorni sull'investimento nel medio lungo termine comunque volevo portarvi questa metrica più precisa il balance price oggi ve lo rizzumo si trova praticamente in prossimità del prezzo se guardiamo per ragazzi un'altra metrica on chain aggiornata questa ragazzi è la percent supply in profit quindi la percentuale di bitcoin che sono in questo momento in profitto considerata tutta la circoli la circulating supply ed è interessante vedere che storicamente i bottom sono contrassegnati quando una percentuale inferiore al 50% dei bitcoin in circolazione è in profitto quindi addirittura abbiamo più del 50% in perdita e in questo momento vedete che abbiamo nei precedenti bear market una supply inferiore al 50% durante tutto il bottom durante il 2018 inferiore al 50% mentre per la prima volta quindi mentre alcuni indicatori che abbiamo già guardato insieme mostrerebbero già una fase di bottom questo indicatore per la prima volta praticamente tra quando bitcoin viola i 16.000 dollari mostra invece l'ingresso nella zona verde quindi finalmente entriamo nella zona in cui meno del 50% della supply precisamente il 48.36% è in profitto in questo momento invece quando bitcoin fa nuovi massimi storici logicamente siamo a una percentuale vicina al 95 100% ragazzi poi passiamo a twitter guardiamo qualche tweet insieme prima di parlare delle fear and greed index questo è un tweet di Charles Edwards che vi consiglio di seguire parla dei miner siamo in una fase ormai di prolungata capitolazione questo vuol dire che i miners praticamente minano bitcoin in perdita ormai da diverse settimane una situazione che potrebbe non essere sostenibile nel medio lungo termine sicuramente potrebbe portare e sta già portando molti miners a dover necessariamente chiudere la loro attività di mining con un abbassamento della share e anche l'aggiustamento susseguente della difficoltà nell'arco di 10 giorni barra due settimane se non sbaglio come vedete c'è un picco del volume di vendita dei seller quindi nelle ultime due settimane si è alzato tantissimo il volume di vendita dei seller che stanno vendendo quanti più bitcoin possibile per cercare probabilmente di mantenere le mining operation attive questo è sicuramente un altro importante segnale di capitolazione un segnale che è lagging per cui non necessariamente mostra il bottom preciso ma comprare ed accumulare nelle fasi in cui i miners sono capitolati ha storicamente rappresentato delle buone opportunità in ultimo ragazzi guardiamo il fear and greed index quindi è l'indice che mostra qual è il livello di paura e di avidità che c'è sul mercato quello che voglio mostrarvi che è interessante è che c'è una divergenza anche su questo indicatore quindi vedete qui quando bitcoin è andato per la prima volta a 17.6 quindi intorno a giugno il fear and greed index era schiantato anche sotto i 10 quindi ad un livello di 7 o di 9 mentre adesso che siamo ad un prezzo inferiore rispetto ai 17.600 vedete chiaramente che il fear and greed index è ad un livello superiore 21 questo vuol dire che c'è una divergenza rialzista che probabilmente impiegherà un po' di tempo per verificarsi ma è un po' il contrario di quello che è accaduto tra il primo massimo che bitcoin ha registrato se non sbaglio a marzo febbraio marzo 2021 con la grid che era salita a 93 quindi in zona 64.000 questo indicatore era a 93 mentre il secondo top con bitcoin che era giunto il 69 se non ricordo male questo indicatore era a 70 75 quindi una divergenza ribassista che ha anticipato sicuramente un importante bear market prolungato quindi stiamo assistendo un po' al processo precisamente opposto di nuovo questo è un indicatore che è lagging per cui ci impiegherà un po' probabilmente a spiegare i suoi effetti come la divergenza di cui abbiamo parlato prima sul time frame settimanale ragazzi per oggi è tutto fatemi sapere cosa ne pensate lasciate i vostri commenti vi ringrazio per la vostra attenzione noi ci vediamo al prossimo episodio ciao